Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a maggioranza le delibere relative alle imposte sulla casa rispettando la scadenza fissata al 23 maggio e dunque senza aderire alla proroga di settembre concessa dal Governo ai comuni inadempienti. La manovra consentirà di recuperare circa 60 milioni di euro, risorse che sono necessarie all'amministrazione per poter erogare nel mese di maggio i servizi indivisibili in assenza dei trasferimenti da parte dello Stato. Una decisione significativa che anticipa anche le proroghe del Governo, dimostrazione che il Consiglio Comunale di Napoli e l'amministrazione comunale sono sensibili ai temi della città perché in questo modo si impediscono problemi di cassa, però vorrei rilanciare il dato che siamo molto insoddisfatti di come si stanno gestendo le politiche fiscali e tributarie nel Paese, dove si fa pagare sempre ai cittadini, dove non si dà autonomia ai comuni e noi non vogliamo più essere gli esattori per conto del Governo, quindi da questo punto di vista rafforzeremo la nostra battaglia affinché le città possano avere sempre di più autonomia e responsabilità. Soddisfazione per il voto è stata espressa in una conferenza in sala giunta dagli assessori al bilancio e ai rapporti col Consiglio Salvatore Palma e Sandro Fucito, oltre che dai capigruppo di maggioranza e dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Il pagamento della Tasi, la cui scadenza è fissata al 16 giugno, riguarderà soltanto i proprietari, restano esclusi gli altri immobili oltre la prima casa che già pagano l'IMU e gli inquilini. Le altre tre rate dovranno essere pagate il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre.